è possibile non pagare le tasse sulle cripto legalmente? in questo video vediamo come fare in tanti mi stanno chiedendo se sia possibile cercare un escamotage per non pagare ste tasse benedette sulle cripto che verranno introdotte in italia anzi ci sono già praticamente e che a partire al 2024 martelleranno come se non ci fosse un domani ma è possibile evitare le tasse? beh la risposta è sì è possibile anche nel caso delle cripto utilizzando un sistema quello più conosciuto se sei magari se c'è qualche commercialista in ascolto ci può dare conferma detto ciò comunque andremo a parlare con un commercialista qui sul canale molto presto andremo a capire individuare un pochino di punti importanti sì è possibile non pagare le tasse legalmente e l'unico modo di farlo è attraverso il sistema del prestito perché il prestito di per sé non è un evento tassabile andiamo a vedere un pochino di cosa stiamo parlando ipotizza di prendere questo sei tu questo sono io tu mi vendi qualcosa ottieni un profitto mi hai venduto qualcosa a questo punto tu su questo profitto devi pagare d'altra parte ipotizza invece perché ti servono 1000 euro no quindi cosa fai vendi qualcosa per ottenere questi 1000 euro ipotizza invece dall'altra parte che c'è la banca c'è la banca tu vai in banca gli chiedi 1000 euro o 1000 dollar insomma quello che è la banca te li dà tu li usi fai quello che devi fare e poi devi ripagare il prestito su questo ripagare il prestito ovviamente non ci sono tasse non ci sono le tasse quindi di base i prestiti non costituiscono un evento tassabile nell'ambito cripto in italia in particolare abbiamo detto bisogna pagare le plusvalenze intorno al 26 per per cifre che cedono i 2000 bla 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 bisogna poi capire anche qua bene cosa verrà effettuato comunque ipotizziamo di aver comprato facciamo un esempio chiaro un bitcoin a 1000 dollari e che lo vogliamo rivendere perché ci servono i soldi ha raggiunto 3000 dollari voglio incassare il profitto di 2000 dollari quindi cosa faccio vendo il mio bitcoin ottengo i miei 2000 dollari e qua devo pagarci il 26 per cento di tasse qui si va bene in euro ragazzi abbiate pazienza è giusto per capire ci devo pagare il 26 per cento di tasse ovviamente faccio dei num cioè non è perfetto anzi in questo caso probabilmente non dovresti neanche pagare ma è giusto per avere un'idea di che cosa abbiamo da un lato e dall'altro questo è l'evento tassabile d'altra parte il prestito non è un evento tassabile quindi ipotizziamo stessa cosa un bitcoin comprato a 1000 dollari io voglio avere disponibilità per esempio di 2000 dollari cosa faccio vado subito ad aprire un prestito un prestito con questo bitcoin di x dollari facciamo finta che poi bitcoin ha raggiunto i 3000 dollari io do come garanzia questi 1000 dollari per prendere un prestito di 2000 dollari che spendo li spendo dovrò poi ripagare questo prestito ma da qui non pago le tasse perché io non ho venduto bitcoin ma ho dato bitcoin come garanzia per ottenere dei soldi che ho utilizzato e che poi mi impegno a ripagare all'emittente quindi alla banca istituto finanziario quello che è quindi sto utilizzando una garanzia per ottenere dei soldi che utilizzo per avviare un'attività per comprare altri bitcoin per investire per comprarmi il televisore la macchina quello che voglio mi impegno poi a ripagare ovviamente questo debito all'emittente con dei tassi di interesse ma su questo ripagare il debito non c'è effettivamente una vendita di mezzo di conseguenza non c'è una plus valenza di conseguenza non devo ripagare le tasse quindi in questo caso che cosa farò ho dato un bitcoin in garanzia gli dico all'emittente alla banca ciccio ascolta io ti ho dato un bitcoin oggi un bitcoin vale 3000 io ho preso in prestito 2000 dollari fai una cosa scorpora da quel bitcoin i 2000 dollari che ti devo e mi ridà il resto e lui ti ridà 0,x bitcoin quindi tu non solo non hai pagato le tasse ma hai utilizzato i 2000 dollari come nell'altro caso e in più non hai venduto il tuo bitcoin perché hai di nuovo una parte di bitcoin sì una parte gliele data per ripagare il debito se vuoi ripagarlo in bitcoin perché nulla ti vieta ripagarlo in euro in quello che ti pare e tenerti tutto il bitcoin tra l'altro un'altra cosa carina è che tu puoi utilizzare in leva bitcoin ottenere profitti senza doverlo necessariamente vendere questa è un'altra cosa molto importante visto che bitcoin statisticamente si sta mostrando una valuta una moneta più potente rispetto alla valuta fiat che tende a svalutarsi mentre bitcoin tende ad apprezzarsi può essere una cosa intelligente chiaramente disclaimer non è un consiglio finanziario fai sempre attenzione alle manovre che fai però può essere una manovra furba utilizzarli come collaterale senza venderli quindi tenerli lì come cassetto e utilizzare invece il prestito che ti viene generato per fare spese per comprare per fare quello che ti serve questa potrebbe essere una cosa intelligente in questo caso diventerebbe bitcoin un pochino come oro e noi utilizziamo un cash collegato a quell'oro lì per renderla più semplice quindi sicuramente può essere interessante oltre che non essere un evento tassabile detto ciò comunque sia tu puoi oltre che scamparti le tasse anche magari non vendere bitcoin o comunque tenerti una parte ovviamente questo caso va da sé che è molto più furbo rispetto questo qui chiaramente fatto sempre con le dovute precauzioni le dovute pinze bisogna fare attenzione ora come fare però questo processo qui beh esiste una piattaforma che ti permette di farlo e si chiama nexo io nexo la utilizzo praticamente da quando non la conosceva nessuno oggi è un leader mondiale è una vera e propria banca digitale che ci permette di acquistare cripto come puoi vedere qua qua sotto ti lascio il link in descrizione per registrarti gratis e in più tenere subito delle percentuali in base a quello che vai a depositare quindi hai anche un premio monetario immediatamente in bitcoin comunque sia hai un cashback puoi guadagnare fino al 16 per cento di interesse come tutte le banche ragazzi anche nexo da degli interessi ora gli interessi delle banche fanno schifo nel caso di nexo invece sono estremamente interessanti infatti si può guadagnare a seconda del livello che si ha in base a quanti nexo token si possiede si può guadagnare dal più o meno 5 6 per fino al 16 per cento di interesse annuale sui depositi quindi puoi guadagnare anche in stablecoin anche per gli euro che vai a depositare sicuramente non male di base mi pare siamo con la stablecoin intorno al 9 per cento tra il 9 e il 12 per cento annuale quindi capiamo stessa cosa per il denaro fiat ma adesso andremo a vedere tutti i vari livelli per capire bene di cosa stiamo parlando puoi ovviamente puoi scambiare quindi puoi scambiare le tue cripto anche allo 0 per cento di fee puoi fare i prestiti come abbiamo detto quindi puoi chiedere dei prestiti da utilizzare anche con la carta di credito che ti dà anche un cashback e andiamo a vedere proprio la carta perché quello che ci interessa il consumabile no tra l'altro con la carta non solo puoi spendere se sei uno che utilizza la carta tu sai io non sono un fan della carta preferisco i contanti beh con la carta posso anche utilizzare contanti quindi vado semplicemente a prelevare e mi prendo i miei contanti e sono contento la prima cosa carina è il dual mod infatti ti dà nexo la possibilità di fare dual mod e adesso vediamo cosa vuol dire eccoci qua possiamo usare la carta di credito quindi evento non tassabile e usare la carta di debito che invece è tassabile ma in questo caso se andiamo a vendere cripto ovviamente se io carico euro per usare euro ragazzi non è un evento tassabile cioè io sto semplicemente utilizzando la carta ecco una cosa che voglio farti passare nexo funziona esattamente come una banca perché può sembrare complesso capire nexo inizialmente ma tu pensalo esattamente come un home banking no una banca digitale tu vai a caricarci su questa banca valute fiat euro dollaro sterlina o vai a caricarci le cripto punto a questo punto puoi decidere se comprare vendere scambiarti da tutto un paniere di servizi che puoi utilizzare ovviamente con efficienza vediamole a confronto carta di credito contro carta di debito carta di credito prima cosa puoi spendere senza vendere le tue cripto quindi puoi utilizzarle come puoi vedere come collaterale nella credit line quindi io ti do in garanzia le mie cripto tu mi presti dei soldi poi io posso decidere se quei soldi ridarteli in euro in dollaro in quello che voglio o dirti tieni una parte delle cripto che ti ho dato liquida le tu fai quello che devi e mi ridai l'eccedenza quindi puoi decidere tu potenzialmente puoi tenertele in cripto senza problemi tu tieni le tue cripto come puoi vedere le tue cripto non vengono vendute a meno che non ci sia un evento di liquidazione quindi che ne so il prezzo delle cripto questa è un'altra cosa importante ok compro bitcoin abbiamo detto lo compravo a mille però se mi va giù e io l'ho usato come prestito magari a 500 dollari perché ho preso 500 dollari di cripto bitcoin mi arriva a valere 500 dollari cosa fanno loro ti liquidano quindi prendono quel bitcoin vendono e vanno a ripagarsi quel debito di 500 carta di debito invece d'altra parte puoi spendere euro sterlina e dollaro senza problemi li puoi ricaricare in cripto puoi ricaricarli in euro sterlina dollaro quello che vuoi e fai tutti gli acquisti normali come fosse una poste pay l'interesse ben detto il cashback va fino al 2 per cento se utilizzi il cashback in exo token se vuoi invece il cashback in bitcoin lo 0.5 per cento degli acquisti che fai e qua tutti i vari le varie cose non ci interessa ecco vediamo un pochino gli interessi perché poi sono gli interessi importanti è vero mi evito il 26 per cento di tasse però stessi devo pagare 30 per cento di interessi diventa scomodo ovviamente non te lo direi se gli interessi fossero così alti no in questo caso nexo ha degli interessi che a seconda del livello che abbiamo quindi a seconda di quanti nexo token possediamo nel portafoglio ci va a dare e a seconda anche dalla molle della molle del prestito ci va a dare a partire da uno 0 per cento annuo quindi sostanzialmente ci presta soldi gratis si è possibile fino a un 15.9 per cento annuo d'altra parte le carte di credito queste nexo le carte di credito tradizionali invece partono dal 17.9 per cento annuo fino al 34.9 per cento annuo una cosa importante di nexo è che questo è l'interesse da pagare annuo punto non è un interesse che va ad aumentare a fare appunto interesse composto giornaliero come per le carte di credito tradizionali e non è un interesse che sei obbligato a pagare ogni mese perché le carte di credito tradizionali ti dicono che ma tu devi pagarmi ogni mese gli interessi perché se non me li paghi ti continua ad aumentare sempre di più gli interessi in questo caso con nexo invece non sei obbligato a pagarli ogni mese puoi pagarli quando vuoi tu puoi anche tenerlo aperto per dieci anni questo diventa molto interessante perché perché sappiamo che da un lato bitcoin è una moneta più forte che tende ad aumentare il proprio prezzo nel tempo dall'altra parte il denaro fiat l'euro per esempio tende a svalutarsi ad essere inflazionato va da sé che se io utilizzo bitcoin quindi la valuta bitcoin come collaterale per prendere in prestito denaro fiat che utilizzo per quello che devo fare se il denaro bitcoin va ad aumentare contro il denaro fiat che invece va a svalutarsi il mio prestito diventa sempre più vantaggioso nel tempo di conseguenza è un po come se utilizzassi bitcoin come gold come oro no ricordiamoci quando c'era loro e io ottenevo il pezzo di carta da utilizzare in giro collaterale legato a loro beh ora è un po come se utilizzassi bitcoin come mia riserva di valore e il mio pezzo di carta in giro per avviare attività per fare cose funziona in questo modo ovviamente bisogna sempre fare attenzione come abbiamo detto disclaimer bisogna fare attenzione non è un consiglio finanziario bisogna valutare estremamente bene farci magari supportare da professionisti però comunque sia è fattibile si può fare e non è un evento tassabile altra cosa importante d'altra parte qui ti fa pagare ti va a fare quello che vuoi ovviamente l'interesse non si sposta c'è non never never exceed this qui non eccede mai questo livello qui altra cosa importante sono le commissioni nessun pagamento minimo e nessuna commissione entrambe le carte ci sono sia modetta virtuale che fisica quindi può utilizzarla anche fisicamente senza problemi e senza costi puoi richiederle vediamo un po accettate usando il circuito mastercard accettate praticamente ovunque molto importante nessuna commissione quindi quando tu le usi per comprare vendere sia online che in giro non hai commissioni di nessun tipo quindi risparmi un sacco di soldi i prelievi dai bancomat sono gratuiti quindi se io voglio prelevare contante posso farlo gratis senza problemi ogni mese e ogni mese posso prelevare fino a 10.000 euro quindi prelievi la soglia di prelievo è molto più alta rispetto quella tradizionale delle carte appunto normali in più è tutta una serie di sistemi di sicurezza puoi bloccare la carta in qualsiasi momento se la perdi puoi cambiare il pin quando vuoi quante volte vuoi puoi tracciare delle varie transazioni fatte istantaneamente e poi ovviamente fare tutto da cellulare vediamo un attimo come si presenta a questo punto l'app ti faccio vedere giusto per avere un'idea qua siamo da computer da cellulare molto simile molto intuitiva come vedi ai dashboard markets exchange transaction qui vedi la lista delle transazioni qui hai la dashboard qui vedi i mercati quindi vai a vedere quanto vale bitcoin nth eccetera qui hai l'exchange e anche la piattaforma di trading qui ad esempio ecco per esempio su questo conto ci sono 1300 dollari puoi prenderne in prestito fino a 1170 in questo caso perché ce l'ho quasi tutti in stable coin qui ci sono gli interessi che mi ha generato e il mio livello che adesso andiamo a fare un upgrade insieme per vedere come funziona hai tutti i vari mercati vedi puoi fare trading puoi trasferire puoi depositare puoi fare tutto quello che vuoi e qua ti fa vedere tutti i vari interessi che puoi prendere esempio su stable coin fino al 16 per cento su euro eccolo qua fino al 15 per cento puoi prendere a seconda dei livelli andiamo a vedere a questo punto i vari livelli i livelli dipendono da quanto hai nel portafoglio in nexo token come puoi vedere qua mi dice se i base devi avere fino all'un per cento di nexo token quindi di base siamo tutti così siamo tutti base e il l'interesse più alto che paghiamo è del 15.9 per cento il silver invece dobbiamo avere dall'uno fino al 5 per cento di nexo token in wallet ad esempio io ho 100 dollari devo avere almeno tra 1 e 5 dollari di valore in portafoglio in nexo token e sono silver in questo caso l'interesse massimo che pago il 14.9 per cento annuale che pago nel momento in cui vado a chiudere ovviamente tutto non ho non è che ogni giorno ogni mese devo pagare fare poi si accumula semplicemente poi lo pago tutto insieme poi gold tra il 5 e il 10 per cento quindi nell'esempio di prima devo avere tra i 5 e i 10 dollari in nexo token e in questo caso l'interesse minimo è del 2.9 per cento annuale fino al 10.9 per cento annuale sempre senza dubbio meglio rispetto il 26 per cento infine platinum sopra il 10 per cento quindi devo avere sopra i 10 dollari di valore e in questo caso l'interesse va dallo 0 per cento questo in nexo token dallo 0 per cento fino al 7.9 per cento annuale massimo che ragazza ancora una volta direi che è interessante cambia a questo punto anche quello che otteniamo come puoi vedere base non c'è cashback sull'exchange quindi tutti gli scambi facciamo non abbiamo cashback 0.1 per cento sul bronzo cioè sul silver sul gold 0 25 e sul platinum 0 5 per di cashback poi le cose importanti sono gli interessi perché noi otteniamo su nexo interesse andando a depositare sia cripto che stable coin che valute fiat io le tengo lì funziona esattamente come un conto in banca un conto deposito assicurato tutto io li metto lì e ottengo cripto ottengo percentuali interessi nella valuta che abbiamo depositato quindi se ho bitcoin ottengo in bitcoin se ho ethereum ottengo in ethereum se ho in usdt ottengo usdt se ho in euro ottengo in euro interessi pagati giornalmente quindi fanno interesse composto ovviamente allora a seconda dei livelli sempre base silver argento oro e platino come puoi vedere aumenta cripto currency 4 per cento di base quindi tutte le cripto anche bitcoin di base ci da un 4 per cento annuale 4.25 4.55 per cento stable coin usdt usdc dai tutti questi qua parte dall'8 per cento fino al 10 per cento per il platinum fiat quindi valute fiat euro dollaro sterlina parte dal 5 per cento fino al 7 per cento il nexo token è fisso al 4 per cento una volta era il 7 per cento quando ho iniziato io e poi nexo bonus se vai a guadagnare se vuoi guadagnare tutto in bon in nexo token questi sono i valori in più che si vanno a sommare a questi interessi quindi se tu hai anziché in stable coin il ritorno in nexo token ha il 10 per cento più il 12 per cento poi cosa molto importante benefit governance quindi ti chiedono di votare per delle decisioni cose puoi farlo questa è una cosa importante le commissioni le commissioni sui prelievi come puoi vedere sono gratuite su tutte le valute tranne th quindi tutto quello che utilizza rete th sono illimitate quindi tu vuoi prelevare in bitcoin vuoi prelevare in rete bsc vuoi prelevare in rete polygon quello che vuoi sono tutte gratuite su rete ethereum invece ne hai alcune al mese gratuite sono nessuno dei piani ne ha tra nel platinum che ne ha una al mese gratuita però tutto il resto è tranquillamente esen commissioni quindi veramente vale sicuramente la pena solo da cellulare può avere accesso appunto alla carta e utilizzarla comodamente come qualsiasi come fosse una carta re volute piuttosto che altre cose cari altre cose carine che abbiamo il nexo wallet in defi quindi hanno creato un wallet defi se sei un cliente istituzionale quindi hai un'azienda puoi creare un conto aziendale su nexo oppure puoi guadagnare con le chiavi app insomma fai se vuoi far trading scalping cose varie collegarle con le chiavi api direi che ho detto tutto mi sembra abbastanza semplice come come piattaforma da utilizzare ecco magari ti faccio vedere anche qui se voglio fare upgrade vedi mi dice quanto mi serve sei doll sei nexo token per diventare silver 100 nexo token per diventare gold e 219 per diventare platinum quindi per esempio io posso andare a prendere exchange facciamo finta voler prenderne 100 converti eccolo qua io vado a scegliermi sul wallet o gli usdt eccoli qui nexo token vado a dire quanti quanti ne voglio facciamo finta adesso il nexo token non mi ricordo quanto valga facciamo un po di tentoni a 50 dollari sono 86 ok e se io compro 70 dollari sono più o meno 122 nexo token quindi facciamo così io voglio prendere 60 dollari voilà sono 105 mi pare siano abbastanza facciamo lo scambio scambia ora andiamo a vedere indietro nella dashboard se mi ha aggiornato mi ricordo se erano abbastanza in parisi come dice sono ancora a livello base ecco qua sono diventato gold a posto quindi ora ho tutti i vantaggi dell'essere gold quindi commissioni più alte tutto il resto possiamo anche bloccarli come puoi vedere nel wallet ci sono anche i tassi fissi vedi hai il fixed term quindi puoi bloccare i tuoi nexo token per del tempo ora mi 4 per cento ma se tu li vai a bloccare ti dà un epr più alto in nexo token quindi se lo blocchi per 12 mesi l'8 per cento per tre mesi un 5 per cento e poi si può aggiornare in automatico da solo anche questa è una cosa secondo me è carina vediamo anche per finire e rendere un pochino più completo il tutto se volessi prendere dei soldi in prestito clicchiamo borro fans puoi prendere in prestito fino a 1100 dollari per un 10 per cento interesse annuale o fino a 266 dollari per un prestito per un interesse 2.9 per cento annuale voglio scegliere stable coin vedi il tipo di loan quindi se voglio le stable coin o voglio un trasferimento bancario cosa voglio ricevere usdc binance usd o tether se invece vado a scegliere bank transfer mi dice cosa vuoi ottenere o dollaro yuan cinese yen giapponee giapponese eccetera quanto vuoi prendere e poi dove la banca a cui vuoi che ti arrivino i fondi e questo è quello che mi danno come come interessi per il mio livello quindi a partire dal 2.9 per cento fino al 10 per cento qui ti dà un piccolo specchietto che adesso ti vado a spiegare che è quello che dicevamo prima cioè del pericolo di liquidazione cosa significa significa che ripeto io prendo bitcoin a 1000 dollari ora bitcoin può salire arrivare a 3000 oppure scendere ovviamente quando ti vanno a fare il prestito si devono tutelare perché loro si prendono bitcoin ma ti danno qualcosa in prestito hanno quello che si chiama loan to value quell'eltv il tuo grado di sostanzialmente di prestito che sulle cripto è intorno al 50 per cento cosa vuol dire vuol dire se tu hai un bitcoin che vale 1000 dollari tu puoi prendere in prestito la metà fino alla metà puoi partire anche da 100 dollari fino a 500 dollari io consiglio sempre di tenersi bassi quindi tenersi intorno a un 30 per cento massimo 20 30 per cento massimo non di più di loan to value quindi se ho mille dollari posso prendere tra i 200 e i 300 dollari non di più perché perché se bitcoin scende rischiamo la liquidazione quindi ci vendono i bitcoin e ci vanno a ripagare il debito che abbiamo contratto con quella cifra lì a meno che non vogliamo poi ripagarlo manualmente però secondo me la cosa migliore è tenersi magari più bassi alzare il loan to value quando ci sono gli halving esempio se vogliamo utilizzare bitcoin come collaterale abbassarlo subito dopo perché tende a scendere di un 80 per cento generalmente bitcoin quindi cosa succede in questa fase ipotizza che bitcoin scende a 500 dollari ci vanno a liquidare perché abbiamo preso 500 dollari invece se abbiamo preso 300 200 non succede assolutamente nulla vuol dire che vanno a coprirsi per di base per un 50 per cento di calo dell'asset che è utilizzato come collaterale quindi se tu utilizzi bitcoin con un loan to value massimo del 50 per cento vuol dire che se bitcoin scende loro si coprono la nexo per un 50 per cento di calo se vai a usare usdt come collaterale il loan to value mi pare arrivi fino al 90 per cento quindi vanno a coprirsi fino a un 90 per cento fino a un per cento di calo questo è giusto per avere un'idea spannometrica di anche questa funzione qua che bisogna sempre calcolare perché non è che regalano soldi bisogna fare attenzione sapere che cosa ne pensi nei commenti lascia like iscriviti se ti fa piacere ti ricordo qua sotto trovi il link per registrarti gratis anexo più avere tutta una serie di bonus e incentivi addizionali oltre che tutti i vari interessi e di evitare legalmente le tasse ti ringrazio per essere stato qui con me qua sotto il link e ci vediamo nel prossimo video